Come molti di voi già sanno, la Dreamy è una delle aziende leader nella progettazione e vendita di robot aspirapolvere e lavapavimenti. Ma questa volta con il nuovo Dreamy L20 Ultra si è veramente superata, portando una serie di novità che possiamo considerare rivoluzionaria in questo settore. In questo video andremo ad approfondire tutte le funzioni principali e le migliorie inserite in questo formidabile robot, che si propone come il migliore in assoluto. Sarà proprio così? Scopriamolo insieme. Per chi fosse interessato, il Dreamy L20 Ultra è già disponibile per l'acquisto e il prezzo di lancio è di 1199 euro. Esiste anche una versione che con 100 euro in più include nel pacchetto un buon numero di accessori di ricambio. Per raggiungere le offerte Amazon selezionate potete farlo comodamente dai link che trovate proprio qui sotto, nella descrizione del video o nel primo commento. E ora addentriamoci nelle sorprendenti caratteristiche di questo robot. Voglio partire proprio dalla caratteristica più rivoluzionaria e che ha attirato l'attenzione di tutti. Si tratta della tecnologia Mop Extend, una funzionalità che è una vera e propria rivoluzione in questo ambito, progettata per affrontare uno fra i problemi più comuni riscontrati nel lavaggio automatico del pavimento con i panni rotanti, cioè l'impossibilità di raggiungere i bordi delle stanze. Infatti per via di come sono strutturati questo tipo di robot, alcuni centimetri dal bordo vengono sempre tralasciati durante il lavaggio. L'idea rivoluzionaria di Dreamy è stata di lasciare la forma e struttura del panno invariata, aggiungendo un meccanismo estensibile. Grazie a ciò, quando il robot passa lungo i bordi, automaticamente il panno si estende per raggiungere quei punti che prima venivano tralasciati, garantendo che ogni centimetro del pavimento risulti lavato in modo efficace. In realtà Dreamy aveva già trovato una soluzione, tramite un aggiornamento per il suo robot L10S Ultra, che tramite una sorta di movimento ondulatorio di tutto il corpo del robot, permetteva al panno di toccare i bordi. Questo però costituiva un grande dispendio di batteria e di tempo, oltre alla maggiore usura del robot. Inoltre non è un sistema perfetto, nel senso che alcune parti potrebbero comunque essere tralasciate, quindi è stata semplicemente una soluzione per tamponare il problema. Mentre questo Dreamy L20 Ultra, lo ha risolto in modo brillante ed efficace. Oltretutto per la prima volta assistiamo all'inserimento di un braccio estensibile su un robot di questo tipo, e chissà in futuro che sviluppi potrebbero esserci. Inoltre il nuovo sistema Duo Scrub permette ai moci di ruotare ad alta velocità e di imprimere una pressione ancora più forte sul pavimento, in modo da strofinarlo con maggiore potenza, ed eliminare più facilmente anche le macchie ostinate e incrostate. Sicuramente Ecovax, il rivale maggiore di Dreamy in questo settore, si starà già spremendo le meningi per uscirsene con qualcosa di ancora più sorprendente. Staremo a vedere, ma per il momento la Dreamy sembra proprio che sia riuscita a dar vita al miglior sistema automatico di lavaggio pavimenti mai realizzato. Naturalmente parlo sempre di prodotti destinati al settore casalingo. All'interno della stazione troviamo il sacco per l'aspirazione automatica dello sporco, con tecnologia Dual Boost 2.0, che pompa aria in entrata e l'aspira in uscita, in modo da creare una pressione maggiore all'interno del cassetto dello sporco e svuotarlo in modo estremamente efficace. Poi abbiamo i due serbatoi classici per acqua pulita e la raccolta dell'acqua sporca, e il dispenser di detersivo che verrà dosato in automatico miscelandolo con l'acqua. Tutte cose belle e utili, ma che abbiamo già visto. Quello che invece vediamo per la prima volta si trova dietro la stazione, e sono degli ugelli che possiamo connettere direttamente all'impianto idraulico, per quanto riguarda il carico dell'acqua pulita e lo scarico di quella sporca, automatizzando così tutto il processo. Quindi in questo modo andremo ad eliminare anche l'azione manuale di riempimento e svuotamento dell'acqua. Certo la stazione dovrebbe essere posizionata in una zona adatta, per poter realizzare l'impianto in modo che non sia troppo a vista, o nel caso migliore completamente nascosto dietro la stazione. Ma a parte questo, si tratta di un impianto non troppo complicato da realizzare, anche se necessita dell'intervento di un professionista. Anche la gestione sui tappeti è stata migliorata. Possiamo decidere se farglieli evitare o se aumentare la potenza di aspirazione quando il robot li incontra. Sui tappeti i panni si sollevano in automatico di ben 10,5 mm. Quindi rispetto ai precedenti modelli della Dreamy, abbiamo un sollevamento maggiore, diminuendo ulteriormente le possibilità di toccare i tappeti con i moci bagnati. Ma se abbiamo ancora dubbi, grazie a una speciale funzione, il robot lascerà indietro i tappeti fino al termine della pulizia. Dopodiché tornerà alla stazione a rilasciare in automatico i panni rotanti, per poi tornare a finire la pulizia sui tappeti senza avere più i panni installati, ottenendo così la massima sicurezza. Insomma, questa volta hanno pensato proprio a tutto. Il sistema di aspirazione Vormax del Dreamy L20 Ultra rappresenta un'altra miglioria importante, grazie alla quale può raggiungere la forza massima di aspirazione di 7000 Pascal. Questo sistema è in grado di catturare particelle di polvere sottili, detriti e sporco grossolano con estrema efficienza. La sua capacità di aspirazione superiore lo rende ideale per vari tipi di pavimenti e situazioni. Inoltre, la spazzola di gomma sollevabile integrata previene il groviglio di peli e capelli, facilitando la manutenzione e garantendo una grande efficacia anche nelle situazioni dove sono presenti molti peli di animali. Il nuovo robot della Dreamy si distingue anche per le sue avanzate capacità di navigazione e rilevamento, grazie alla combinazione delle tecnologie Pathfinder Smart Navigation, AI Action e 3D Structured Light. Queste tecnologie lavorano insieme per garantire che il robot si muova in modo efficiente e preciso all'interno della casa, evitando ostacoli e coprendo ogni angolo del pavimento. Pathfinder Smart Navigation è un sistema di navigazione intelligente che permette al robot di tracciare il percorso più efficiente durante la pulizia. Utilizzando sensori avanzati e algoritmi di mappatura, il robot è in grado di determinare la disposizione delle stanze e degli ostacoli, ottimizzando il suo percorso di pulizia. Le tecnologie 3D Structured Light e AI Action utilizzano la luce strutturata per identificare e mappare ostacoli in tre dimensioni e l'intelligenza artificiale per riconoscere e reagire a vari ostacoli e situazioni. Ad esempio, se rileva un ostacolo come un giocattolo, una ciabatta o una scarpa, può evitarlo creando un percorso attorno ad esso. Questo sistema lo rende in grado di distinguere e riconoscere chiaramente 55 oggetti di uso comune in casa e grazie alle luci a LED può riconoscere questi oggetti anche in condizioni di scarsa illuminazione. La batteria integrata è da 6400 mAh e il sistema di ricarica è stato reso più veloce del 30%. Tutto ciò garantisce una lunga autonomia e un minor tempo di ricarica, rendendolo adatto a case anche molto grandi. Infine abbiamo la solita compatibilità con assistenti vocali di Alexa, Google e Siri e l'applicazione offre una grande quantità di funzioni, in modo da personalizzare la pulizia in ogni stanza, creare zone vietate, muri virtuali e molto altro ancora. Insomma, alla fine i primi posti per i migliori robot aspirapolvere e lavapavimenti, se li giocano sempre fra Dreamy ed Ecovacs. Devo dire però che i robot della Dreamy riescono a mantenere un costo un po' più contenuto rispetto ai loro acerrimi concorrenti. Vi ricordo che il Dreamy L20 Ultra è già disponibile per l'acquisto e il prezzo di lancio di 1.199 euro, oppure 1.299 euro per la versione che include già molti accessori di ricambio. Per raggiungere le offerte Amazon selezionate potete farlo comodamente dai link che trovate proprio qui sotto nella descrizione del video o nel primo commento. Prossimamente approfondiremo ancora le novità in questo settore, comprese quelle di Dreamy e di Ecovacs. Quindi se ti interessano questi temi non dimenticarti di lasciare il tuo like e di iscriverti al canale, attivando anche la campanella delle notifiche, per rimanere aggiornato sulle prossime novità.